la bruscatella erano queste i giorni della saggia dell'olio nuovo stagliava il pane tra fila presa la mattra stirava giù la braggia che le mogliole dal fuoco smettevano i treppiedi e sopra le fette del pane abbrustellì intanto si pelavano le specie d'aglio si metteva il pane abbrustellito intorno al piatto grande se struffava sopra l'aglio un po di sale tanto olio e che appetito grazie